Un altro punto che mi ricorda che c'è un'altra parte di guia e di tarea per raggiungere. È parte di raggiungere, raggiungere, di 12 anni, adolescente, che non sono 16-17 anni, ma non sono attenzionando scuola in secundaria. Alcune anni, mi ricorda di scuola in secundaria, a cominciare il progetto di scuola per offrire il servizio per gli studenti per offrire il progetto di scuola in secundaria. Il momento di scuola in cui la casa è migliora lavorando, è molto importante fare, ma non c'è un depo, ma non c'è un depo, ma non c'è un interesse, ma è stata buona per offrire assicurazioni a ogni e un'opportunità per avere un luogo, un'facilità, anche, per chi era il mio luogo, il mio concetto per scuola per offrire. Un punto, anche, che ho parlato di unicef, è parte della ricerca, la qualità di crescere, e di cercare di attrazione, strutturalmente. non so, papi vuoi di una scuola dopo la scuola però sono anche di una scuola per me, con un'altra scuola è stata molto importante parte di crash di passato che abbiamo differente controlli di essere così di essere in diversi casi che sono lamentabili di passare in diversi crash mi sa, non so, papi che sono diversi leitari di crash non ha fatto il massimo esforzo a brindare un programma più integrale che è possibile non è molto però, in questo modo abbiamo competenze con il nostro ferro quindi abbiamo che pagano per la scuola e che c'è un altro che è stato che è parte di crash e non lo dice di avere più controlli e a la vez è parte che è un'unicef che è un sistema permanente di evaluazione di qualità per crash che mi sa qui del mio concepto è qualcosa che stengo tra arriva di qualità che è un'unicef della scuola